Non sarà certo un grosso sollievo economico per le famiglie di Silvi, ma di questi tempi un'iniziativa che va rimarcata. Nella riunione di giunta del 17 febbraio il Comune ha deliberato una riduzione della Tarsu del 7%. Da non sottovalutare, tenuto conto che le casse dei comuni non sono floride e che i costi dei conferimenti in discarica crescono in continuazione. Perché tutto ciò è possibile? La risposta è raccolta differenziata, la cui buona applicazione dei cittadini Silvaroli ha permesso di dare questo piccolo ma significativo segnale. E l'abbiamo dato questo segno. Quindi rinnovo il ringraziamento dei cittadini innanzitutto per la grande collaborazione anche se c'è sempre qualcuno che stenta a recepire il messaggio e ad attivarsi. Un altro riconoscimento giunto recentemente è quello di Silvi, Comune Riciclone. In Abruzzo è il migliore tra quelli al di sopra dei 15.000 abitanti, sfiorando il 50% di differenziata. Oltre ad avere questo riconoscimento abbiamo anche dato la possibilità con una raccolta di fondi attraverso la sponsorizzazione dell'Eco Calendario, la possibilità di aiutare i bambini che hanno più bisogno di noi, tipo il Burkina Faso. Quindi abbiamo contribuito con una somma di 12.600 euro circa. attraverso i frati francescani che operano in quelle zone. Insomma, differenziare conviene sotto tanti punti di vista. Silvi vuole continuare a sensibilizzare i cittadini in tal senso, ma l'assessore Adonine chiede agli enti sovracomunali, provincia e regione, di non essere da ostacolo, bensì di fare anch'essi la loro parte. Ecco come. Cercando di bloccare la somma per il conferimento che aumenta quasi a dismisura ogni anno e quindi per fortuna, altrimenti per fortuna noi siamo riusciti a diminuire la quantità di conferimento come secco, da 12.000 tonnellate a 5.000 e quindi siamo riusciti a ridurre del 7%, altrimenti avremmo avuto grosse difficoltà.